Il Paradiso delle Signore, nuove puntate 2022, e Stefania potrebbero uscire di scena. Marco e Stefania escono di scena dal cast del Paradiso delle Signore 2022. L'appuntamento con la soap opera continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena ai fan e spettatori. Al centro delle nuove trame ci saranno le vicende di una delle coppie più amate di sempre tra quelle che si sono create all'interno del grande magazzino milanese. Trattasi di Marco e Stefania, i quali si ritroveranno a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata. Che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. L'appuntamento con le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 per il 2022 rivelano che Marco si ritroverà ad affrontare una situazione estremamente difficile e complicata dal punto di vista lavorativo. Suo fratello Tancredi, infatti, gli sta ostacolando in tutti i modi la carriera nel mondo del giornalismo. E per tale motivo il nipote della contessa intende gettare la spugna e cambiare mestiere. Un duro colpo per Stefania, ma anche per la stessa Adelaide, la quale deciderà di adoperarsi per fare in modo che suo nipote non si lasci scoraggiare. Il colpo di scena arriverà nel corso delle puntate che saranno trasmesse dal 21 al 25 novembre 2022, le trame della Sopra contano che Marco riceverà un'importante proposta di lavoro. La quale potrebbe cambiare per sempre sia la sua vita, che quella di Stefania. Insomma, per il giovane nipote di Adelaide arriverà una proposta del tutto inaspettata e al tempo stesso molto allettante. Che finirà per avere delle conseguenze importanti anche sul suo rapporto con Stefania. Di cosa si tratta? Non si esclude che Marco possa essere chiamato a dirigere qualche importante rivista e magari spostarsi da Milano per trasferirsi in un'altra città. Nel corso delle nuove puntate del Paradiso delle Signore si potrebbe assistere all'uscita di scena della coppia Marco-Stefania. Che potrebbero intraprendere insieme un nuovo percorso di vita. La Venere, infatti, potrebbe decidere di stare al fianco del suo fidanzato in questa nuova avventura professionale di grande prestigio e di conseguenza lasciare il suo lavoro all'interno del grande magazzino. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma c'è da scommettere che nel caso in cui questo addio dovesse diventare realtà, sicuramente lascerebbe l'amaro in bocca ai tantissimi fan e spettatori della soap opera. Che sperano di assistere al matrimonio della giovane coppia. Che sperano di assistere al matrimonio della giovane coppia. Grazie a tutti.